ciao a tutti controlla i tuoi pensieri con questa semplice tecnica che ti permette di attirare la felicità fondamentalmente anche l'amore nella tua vita allora i nostri pensieri intanto dobbiamo dire questo non sono un qualcosa di che si esaurisce nella nostra testa fondamentalmente il pensiero è energia il pensiero è energia che si propaga nell'universo con delle vibrazioni allora potremmo dire che la vibrazione data dallo stato d'animo e dall'intenzione che ha questo pensiero faccio un esempio se ho una preoccupazione se ho un pensiero di paura se temo ad esempio faccio un esempio di essere abbandonato e metterò dei pensieri a una certa frequenza potremmo dire sulla frequenza dell'abbandono pensiero energia l'energia una frequenza la frequenza il numero di cicli che fa un'onda nell'unità di tempo diciamo così come si propaga e quindi questo pensiero di abbandono andrà per resonanza a interagire con eventi del multiverso con configurazioni di universo per meglio dire che comprendono il fatto che io venga abbandonato e quindi inizierò a sperimentare l'abbandono quindi ovviamente se uno dice beh allora la cosa è risolta facilmente pensa positivo e le cose ti andranno bene in realtà non è così semplice perché quello che quelli che si avverano sono i pensieri sorretti da credenze più profonde cioè io posso pensare oh che bello sicuramente non sarò abbandonato ma se dentro c'ho quella paura di essere abbandonato questo pensiero diciamo così è superficiale e allora cosa devo fare devo sfruttare questa semplice tecnica che è quella lo sfruttamento degli stati emozionali allora uno stato emozionale non è un qualcosa che è fino a se stesso rappresenta potremmo dire il terreno fertile su cui posso seminare delle suggestioni quindi dei nuovi pensieri quindi una suggestione è un pensiero che per la modalità con la quale viene pensato con la quale viene prodotto tende ad attecchire tende a diventare realtà e quindi devo procurarmi delle emozioni per mettere diciamo così i pensieri che voglio mettere la cosa bella è che posso sfruttare anche emozioni potenzialmente negative cioè io posso anche sfruttare emozioni negative posso sfruttare ad esempio la paura dell'abbandono e questa paura nel momento in cui me la vivo io la paura crea un terreno fertile perché crea uno stato emotivo alto e allora è lì che devo mettere un pensiero positivo io deciderò della mia vita sono io che controllo la mia vita se una persona se ne va poverina non sa quello che si perde devo mettere io in quel momento dei pensieri le cose andranno bene comunque sia sono felice chi non mi ama non mi merita ecco devo mettere questi pensieri positivi quando c'è uno stato emozionale alto cioè questo devo farlo ogni volta sia che provo uno stato di benessere sia che provo uno stato di sofferenza di solito cosa succede che quando proviamo uno stato di sofferenza automaticamente vengono fuori dei pensieri negativi invece lì che dobbiamo andare a seminare i pensieri positivi quindi la tecnica per attirare amore è di mettere i pensieri ogni volta che viviamo uno stato emotivo per qualche per uno stato emotivo possiamo vivere sia perché siamo felici sia perché siamo tristi ma è sia in un caso che nell'altro dobbiamo mettere pensieri positivi che vanno a che vadano a comprendere l'oggetto che voglio realizzare l'obiettivo che voglio realizzare io attiro amore io attiro felicità io attiro gioia queste sono le cose che devo emettere i pensieri che deve mettere quando sto bene quando vive emozioni positive ma anche quando sto male quando vive emozioni negative ecco sfruttiamo gli stati emozionali questo è quello che dobbiamo fare per raggiungere dei risultati nella nostra vita e ottenere di poter essere felici ed attrarre felicità gioia benessere amore bene per questo video è tutto seguimi anche sulla pagina instagram massimo taramasco iscriviti al canale e iscriviti anche al mio nuovo canale felicità benessere di cui ti posto il link in descrizione ciao ciao